Ragazzi, quindi oggi vado con Condemned Quindi Basta Costa a fare Ok Abbiamo una porta dell'armadietto E ciò mi rende strafelice No, scherzo Dobbiamo andare Minchia, ce l'ho da sbarrare il cemento La voglio, la voglio, la voglio, la voglio Ok Dobbiamo andare ora dalla biblioteca Per poterci incontrare con Rosa Per oddio, tu dove cazzo eri? Per avere delle informazioni riguardo al Sennel Killer finale All'ultimo che ci manca E trovando lui potremmo trovare Anche il nostro Serial Killer X Ovvero il Serial Killer di Serial Killer Come lo abbiamo chiamato E come è comunque in effetti Quindi Possiamo attivare la 360 Ho sboccato il distintivo da investigatore d'argento Wow Wow, 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 wow Wow, smette di sparare Merda, no, merda Fanculo a me stesso No, no, mi sta massacrando Mettila, muori, ti prego Ok, tirata di orecchio è il numero 3 Mi sembra Tirata di orecchio Ok, il fucile sarà scarico, immagino Qualti colpi ho? Uno, due Va bene Però abbiamo anche dei comodi Medikit Quindi Però come faccio a Dai, minchia Guarda te Guarda te se devo fare 2000 passi Perché questo qua non sa ti tirare i pugni Se hai in mano un fucile Devo andare a sprecare un sacco di tempo Per raccogliere un'arma inutile Raccogliono un po' Vabbè, almeno a due colpi No, sì Raccogli un medikit E raccogliono un altro Ce n'è ancora uno Madonna che lusso Sto bastardo qua col fucile Mi ha fatto speccare il taser Perché l'ho mancato come un pirla Rosa Oh, merda Eruzioni violente Uh, uh, uh Uh, uh Merda, ora anche i polizioti Non ci bastano i mostri Assettati di sangue Ora abbiamo i polizioti armati Fra l'altro Perché sono sicuramente armati Guarda là che casino Cosa sta cadendo qua? Ma come fa a sentare giù da uno Ma dai, è altissimo Poi ci credo che la gente Nella vita reale Salta da Dai, dai palazzi Perché gioca troppo E i videogame Merda Ti fanno fare dei salti così? Dai, era troppo alto Per una persona umana E questo qua invece Deve fare uno sforzo assurdo Mentre Potrebbe farlo benissimo Con nonchalance Quindi quelli là Si picchiano fra loro Io intanto dov'è che vado? Sposta oggetto? Va bene Oh, oh, oh Oh Fa un culo Dammi un fucile No, è scarico, vero? No, è carico Cinque colpi Sì, come 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 vuoi te, amico? Basta che mi fai andare via Merda, questa è chiusa Smettila Merda, ma che cazzo? Basta Sono immortale sti qua Guarda, porca puttana Te cosa fai la Vieni qui e muori No, merda Smettila Porca troia È immortale Questo qui Avete Avete visto anche voi Due colpi di fucile a pompa Non bastano questi qua Intanto abbasso un po' perché No, così è muto No, ok Così è troppo alto Che cazzo Salta giù dal Palazzo Assurdo Ora aspettiamo questo qui Che ci verrà a uscire Vieni qua Anzi Tenterà di ucciderci Perché noi siamo troppo potenti E qua E quanti E quindi Qua Abbiamo Alcuni che possiamo colpire alle spalle Così Ok E abbiamo solo sprecato dei colpi Qua c'è un oggetto Ok, è un fucile Cioè Non un oggetto C'è un fucile Questo qua è immortale Ovviamente Ok Ora dovrebbero Arrivarne altri tre In teoria A meno che non posso scappare No Ovviamente Ecco Ce l'ho dietro, vero? No, ok Dove è? Dove cazzo? Perché non vi avanzate fra voi Come fate a volte? Bastardi Ora un colpo basta Muori, muori Merda 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 Ok Un tubo Merda Smettila Un po' ti ho tirato un calice Oh, no Oh, no Oh, no Dammi la fare Subito le Levati Dove è visto Le Levati Ho detto Levati Merda Odio quando si appiccicano Sprego Lecati dalle palle Ancora vivo Basta Dammi mediti Dammi mediti Dammi mediti Dammi mediti E' esci dal vicolo Ok Esci dal vicolo Che ci stanno per sparare Esci dal vicolo Ragazzi, siamo bloccati in un bar Ok Leva Ti dà le palle Mediti 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 Trova rifugio saltando Cosa? Ah, ok Va bene Vai Ora che cosa? Wow Stiamo partendo Ah Dio mio Dio E' bellissimo sto pezzo E' fantastico Wow Etico Oh mio Dio Che figata Vai, 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 vai No No, 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 no Non farlo salire però Ok Wow Mi sta gasando sto pezzo ragazzi No, siamo caduti Scappala dentro Scappala dentro Che ci stanno per prendere Ok, bravo Ma Dammo Sono stupidi voi agenti Dai Era un cellulare agente Nella merda Rosa, be quiet Ahia, ahia Ma dai Ma è stupidissimo questa gente comunque Eh Toh ma succidilo Oh mio Dio Ma cosa? Ma dai Ma che agente La gente è peggiore del mondo Davvero Cioè Rosa, non farla figa adesso Sì, sì, sì Ho finito un altro capitolo Wow Cazzi Stiamo andando a palla qua Ma davvero In solo un video? Boh Sì, mi sembra in solo un video Vabbè Dovremmo essere Ok Stiamo nella biblioteca Almeno Suppongo che sia Cosa sta facendo Stanno pregando Cosa sta facendo Thomas Non entrare Ah Thomas, perché? Siamo entrati in un posto pieno di mostri Non voglio Scusate per il rutto Trova Rosa Dorothy Oh mio Dio Ditto Ti amo Che sei Thomas è orribile Lo so Dorothy Anch'io ti amo Non te l'ho mai voluto dire Ma Non ce la faccio più a fingere Dorothy Ti amo Allora Non posso usarne una come arma Peccato Sarebbe epico Ma Ditto Io Shhh 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 Ma Ditto Shhh Allora Trova Rosa Questa è la missione? Sì Trova Rosa Se Se andate a imboscare Non è colpa mia A te Cosa mi dici? Ditto Segui il mio sguardo Per trovare Rosa Ok Di qua quindi Il tuo sguardo mi è inutile Mi sta andando Mi sta facendo andare in un bug Ditto Coglione Superalo Grazie amico Ok Però le porte sono chiuse Quindi mi sei comunque inutile Ditto Ignora quel coglione Segui il mio disguardo Ti indica di là Va bene ok Seguo il tuo consiglio Ditto Lascia stare quei due coglioni Segui il mio sguardo Dato che non ne ho uno Ma vaffanculo Non ha gli occhi Quell'uomo È un quadro dipinto malissimo Odio i corridoi Merda Basta 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 Vai 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 Ma per me scusate Ti piace a piano terra BD basement Mi sta inquietando Basement è la cantina No 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 che cazzo Non c'è un tasto con cui si può satisferrare un calcio Eppure Beh me l'ha sferrato prima Cos'è sta roba Qua Block notice Una panca Questa si può aprire Ci mancherebbe Qua Eh Direi di sì Però passiamo di qua Perché ci sono i scarabocchi che mi Che mi ispirano Qua non c'è niente Vietato Scoparsi Dorothy Suppongo Che strani divieti in sto posto E c'è un vi Oh mio dio Quella è rosa Thomas Che strada Ma sei terribilmente brutta Beh ma rosa Ma mettiti un sacchetto Più di squatter Cosa sono gli squatter Mica rosa Sei davvero terribile E quindi Rosa Cosa è una portal gun quella lì Cos'è quell'arma Dammi quell'arma Wow 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 La mia densità di ossa è Cosa? Perché? Cioè io sono un mutante Vedere il PR56 Cioè Con chi stai parlando Rosa Sembra che è lo stesso Ah ecco Quindi mi stanno cercando Anche perché io sono una persona speciale In quel senso Cioè in questo senso Vabbè Ma ok ma spiegati meglio Mi stai dicendo stelle cose La portal gun Sì Il super taser Il mio taser è stato potenziato Perché? Wow Cos'è? Cos'è? Cosa è accaduto? Ho ucciso Rosa Oddio no Cos'è? Minchia sei disturbante Sto gioco No no tranquilla Ho visto Ho avuto una visione Celestiale Comunque Sto un po' qua Ci vediamo nella prossima parte Lasciate un mi piace I commenti Invitate a farlo Sono Fantez I vostri stupi Ciao Ciao